Non sono esagerato, è proprio così. No, no, è così, perché noi abbiamo la possibilità di visionare le visite, quindi capire praticamente dai luoghi nei quali ci seguono e c'è da dire che effettivamente da tutte le parti del mondo. E quindi un grandissimo saluto da parte nostra e credo che la partita sia stata anche gradevole. Il Grassano è riuscito a trionfare e noi siamo felicissimi anche per quello che sta succedendo fuori dal campo. In pratica è tutto tranquillo, il tifo è pacifico, adesso tutti si apprestano a lasciare lo stadio e questo è lo sport. Ecco, una bellissima giornata di calcio. Direi che tutto l'intervento delle Forze dell'Ordine, per carità, magari è appuntionato da deterrente e quindi tutto è filato per il meglio. Quindi benissimo, forza ragazzi, domenica tutti a tifare per il Grassano a Villa d'Agri e quindi direi, scusateci, ma anche forza pomarico per domenica prossima. Un sano tifo da parte nostra è doveroso. Benissimo, vi salutiamo, ci risentiamo domenica prossima. Mi raccomando, sempre numerosi. Arrivederci. Questo programma vi è stato presentato da... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.